questa mattina parliamo di cinema con l'ultimo capolavoro di casa pixar disney stiamo parlando di inside out 2 ecco il trailer se l'avete visto sapete di che cosa sto parlando se non l'avete ancora fatto recuperatelo perché andate al cinema a vedere questo bellissimo capolavoro dedicato ai più piccoli e ragazzi ma anche agli adulti ed è stato recensito sul suo blog cine scatenato da marco toriello autore appunto del blog cine scatenato e direttore artistico di corti in opera buongiorno marco benvenuto buongiorno buongiorno a voi allora inside out 2 tu l'hai visto io l'ho visto stiamo vedendo anche la recensione riportata sul tuo blog le avventure delle emozioni della giovane rally che appunto da piccola diventa adolescente quindi arriva il periodo probabilmente più temuto dei genitori che quello della pubertà allora come ti sei approcciato a questo capolavoro disney innanzitutto con grande curiosità perché io come credo tantissimi altri spettatori nel mondo sono stato un grande fan del primo film che era un capolavoro impareggiabile e secondo me questo film non riesce a raggiungere la perfezione di di quello ma semplicemente perché veramente quello era un film talmente innovativo originale che era impossibile raggiungere di nuovo quel livello però bisogna dire che anche questo sequel è veramente di grandissima fattura e come anticipavi tu poco fa soprattutto tocca questo tema importante dell'adolescenza che questo piccolo pezzo della nostra vita che poi è così determinante e secondo me il film lo rende benissimo perché poi vediamo che insomma proprio perché si entra nell'adolescenza arrivano delle nuove emozioni che instaurano una sorta di dittatura poi nella nella mente di riley e direi che come immagine veramente azzeccata è una è un lungometraggio che davvero riesce in qualche modo ecco a farti rivivere quelli quelle che sono state le tue emozioni quando eri adolescente e non so se ti è capitato io ho incontrato una coppia di amici con una figlia quasi adolescente pre adolescente alla domanda hai visto inside out 2 mi ha risposto sì e poi mi ha detto io sono ansia insomma detto da una ragazza di 10 10 barra 11 anni mi ha molto colpito che insomma voglio dire l'ansia magari un sentimento che appartiene quando si è un po più grandi no giovani adulti come me come te però insomma a quell'età questo mi ha molto colpito vuol dire che il cartone davvero ha toccato forse un nervo scoperto di questi giovani di oggi sì assolutamente sì ecco questa è una delle trovate più intelligenti di sceleggiatura che poi insomma sono state resa è stata resa benissimo nel film e anch'io ho raccolto diverse testimonianze di bambini proprio di magari di 9 10 anni appunto diciamo ansia sia anch'io all'ansia ma come invece così perché il film poi insomma come come il primo capitolo parla poi a tutti non solo ai bambini anzi forse parla di più agli adulti e ansia è una protagonista assoluta del film perché l'emozione dominante del nostro tempo utile nasconderlo cioè l'ansia è ormai è spesso al centro della quotidianità al centro dei dei dibattiti degli psicologi e quindi ecco è una è un tema che ha lasciato il segno anche perché poi il personaggio è stato reso benissimo in maniera accattivante non so ricorderai bene per esempio la scena in cui lei ansia va in tilt faccio un piccolo spoiler tanto penso che ormai l'hanno visto quasi tutti e va in tilt e praticamente fa rende tutta la tastiera arancione come come se stessa e quella è un'immagine che rimasta colpito tanti io la sento citare quando parliamo del film mi mando proprio la scena da parte delle persone io sono ansia e allora tutti quanti a mimare questo della della piccola emozione antropomorfa che vediamo nel film anzi che a volte ci blocca no ci ci proprio quella è proprio l'immagine plastica di quello che che si vive è un davvero un film dedicato ai ai giovani ai ragazzi anche agli adulti davvero un film attraverso il quale possono riscoprire qualcosa in più magari anche guardandolo con i propri figli o con i propri nipoti lo dicevamo ieri con te marco ma è ricomparsa anche la notizia la pagina di degli spettacoli di repubblica ha sbancato il botteghino come si dice in questi casi addirittura ha superato il film della cortellesi sì un risultato incredibile se pensiamo che ieri a inside out 2 ha infranto il muro dei 37 milioni quindi balzando al primo posto della classifica del box office italiano della stagione 2023 24 e ci ha messo poco meno di 20 giorni pensiamo che la cortellesi che già c'è ancora domani fine della cortesi ha fatto un risultato incredibile che aveva fatto 36 milioni e ci aveva messo 50 giorni quindi questo per capire la portata del film l'impatto che ha avuto sulla gente perché poi chiaramente si innesca l'effetto passaparola e quindi c'è c'è stato qualcosa in più oltre al fatto che la gente fosse stimolata dalla questione di dover vedere un film il sequel di un film già importante io credo che sia sempre ricollegabile alle tematiche importanti il film tratta e a questo connubio sempre riuscito da parte della Pixar tra leggerezza e profondità e divertimento e introspezione sempre vincente loro sono veramente straordinari in questo e stavolta più di altre volte ancora hanno fatto veramente centro si sono superati poi quello che colpisce sono davvero i colori meravigliosi e poi un'altra cosa che a me piace molto è il doppiaggio italiano so che film andrebbero visti nella lingua originale ma i doppiatori italiani sono davvero pazzeschi lasciami passare questo termine così concordi con me Marco sì sì hanno fatto un ottimo lavoro e è importante beh in questo caso io direi tu sai che c'è sempre il dibattito tra doppiatori e puristi però in questo caso è importante prendere il film accessibile a tutti sappiamo che c'è un platea di spettatori molto giovani quindi il doppiaggio è fondamentale è così ne parlavamo prima adesso ti rubo ancora qualche minuto Marco sì d'estate cinema sì o cinema no perché insomma il risultato di Inside Out 2 va nella parte del sì insomma non è vero che d'estate non si possa andare al cinema è un'attività prettamente autunno barra inverno no assolutamente no è un trend che sta cambiando tantissimo negli ultimi anni e per fortuna direi innanzitutto i grandi distributori stanno finalmente rischiando dei film importanti che di solito riservavano per l'inverno quindi mi riferisco proprio a Inside Out 2 ma anche l'anno scorso Oppenheimer, Barbie sono stati di grandissimi successi commerciali e quindi rischiando questi film poi c'è la risposta da parte del pubblico è importante che il cinema non si fermi d'estate perché poi la gente quando c'è una bella offerta risponde positivamente e quindi c'è anche una diciamo questo si va a unire poi alla risposta anche di pubblico che c'è nelle classiche arene estive in cui si ripropone un po' il meglio del cinema recente Ecco a proposito di cinema e di arene estive andiamo a Lucera abbiamo la locandina di appunto di un evento importante che porta il cinema all'aperto quindi appuntamenti nel mese di luglio chiedo un aiuto alla regia eccolo qui è il cortile dell'opera di San Giuseppe a Lucera 10-22 luglio mi sembra che c'è un appuntamento in più se riusciamo a rendere la locandina ecco a farla scorrere perfetto dal 10 al 29 luglio ci dai qualche indicazione in più Marco? abbiamo allora questa è una rassegna che ho curato appunto per il cineteatro dell'opera di Lucera che per l'estate appunto si sposta all'aperto sotto le stelle con questi quattro film d'autore che andremo a vedere a partire da domani dal 10 fino al 29 luglio e sono quattro film recentissimi il primo è Cattiveria a domicilio che è una commedia britannica al vetriolo molto pungente, sboccatissima che parla di due donne, di una serie di lettere anonime con protagonista il premio Oscar Olivia Colman poi il 15 luglio c'è Challengers che è l'ultimo film di Luca Guadagnino il nostro Luca Guadagnino che continua la sua marcia inarrestabile a Hollywood un dramma sportivo sentimentale con protagonista la star amatissima dai ragazzi Zendaya poi il 22 luglio è la volta di May December che è un thriller psicologico anche qui con due pezzi da 90 come Julianne Moore e Natalie Portman e infine il 29 luglio c'è Fuga in Normandia che è una commedia drammatica che vede per l'ultima volta sulla scena due grandissimi attori britannici Michael Caine che ha annunciato da poco il ritiro dalle scene e Glenda Jackson, altra grandissima attrice che è scomparsa, ci ha lasciati l'anno scorso quindi l'appuntamento per questi quattro film che si terranno con spettacolo unico alle 21 e biglietto d'ingresso 4 euro Benissimo, allora appuntamento a Lucera per appunto il Cinema Sotto le Stelle e intanto ringrazio Marco Toriello per essere stato con noi ricordo il tuo blog Cine Scatenato e ricordo anche che sei direttore artistico di Corti in Opera che è andato in scena a Lucera nel mese di maggio beh sicuramente ci sarà un'edizione 2025 ma poi avremo modo di parlare anche di questo importante festival di cortometraggi della città di Lucera grazie, buon estate, buon cinema quindi se nel caso in cui dovesse esserci qualche altro film ti richiameremo e ne parleremo insieme grazie davvero per la disponibilità Marco grazie a te, buona giornata a te, grazie, buon lavoro e allora torniamo, andiamo in pubblicità e poi di nuovo insieme per un altro ospite continueremo a parlare di giovani, questa volta del beato Carlo Acutis grazie a tutti